Gela domani scendo in piazza sarà mobilitazione generale con lo sopro proclamato dal Consiglio Comunale. Ci sarà anche la chiesa con il suo clero, ci saranno gli ordini professionali, i commercianti, gli imprenditori. La partenza del corteo è prevista alle 9.30 dal piazzale antistante all'ospedale Vittorio Emanuele e si concluderà in piazza Municipio. Un corteo per dire no alla chiusura della raffineria Eni, uniti per il lavoro e la salute e lo slogan della manifestazione di domani. La situazione all'orizzonte non è positiva, però vogliamo credere ancora nella politica, nella città e dare una risvolta e vedere di trovare delle risposte positive. Ormai siamo a collasso, siamo arrivati, non alla frutta, nemmeno alla frutta, perciò continuiamo a fare questo sciopero e non ci fermiamo finché non abbiamo delle risposte certe. L'unica speranza concreta è che arrivino notizie confortanti da Roma, perché in questi giorni ci saranno numerosi incontri. Sperando che arrivino queste possibilità, perché si parla di ammortizzazione sociale, di Evo Green, di altre formazioni, anche per noi che apparteniamo, per esempio io parlo personalmente che siamo 180 ragazze, che siamo analisti a bacino, in questo accordo loro ancora tuttora non ne stanno ancora parlando. Si parla solamente perché è la società attiva, qualunque tipo l'impianto, l'elettroclima e anche altre società. Però di noi che apparteniamo a un progetto dove si parlava che loro hanno firmato allora nel 2014 di essere assorbito e tutto questo personale, ancora niente completamente. Ricordiamo che la raffineria dava lavoro anche ai paesi limitrofi, Mazzarino, Niscemi, quindi l'interesse di tutti è quello di sbloccare questa situazione perché l'economia è ormai quella che è, c'è un grande disagio e il futuro è un po' incerto. Intanto mercoledì prossimo torneranno ad incontrarsi a Roma al Ministero per lo sviluppo economico i rappresentanti del governo, il governatore Crocetta per la regione Sicilia ed il sindaco Domenico Messinese per il comune di Gela.